Settimana Santa, il libro che racconta due scudetti del calcio Napoli, 1990 e 2023, edito da Gianmarino Editore. Il volume è scritto da Giuseppe Manzo e Taizia Raio ed è presentato nella sede dell'Ordine dei giornalisti della Campania. Un bambino di 10 anni, nell'aprile del 1990, una giornalista trentenne tra aprile e maggio 2023. Lui vive il suo primo scudetto da protagonista nella settimana che va da Bologna alla partita con la Lazio. Lei, sette giorni a cavallo di Napoli Sairnitana e Udinese Napoli, un racconto a specchio di due scudetti sotto al Vesuvio tra epoche diverse e un mondo nuovo. Ma la passione resta la stessa per quella che è diventata la religione laica di un intero popolo sparso in tutto il mondo. Ascoltiamo gli autori. La Napoli dei fini anni 90, dei tempi di Maradona, è il tifo, quel tifo appassionato a confronto con quello di oggi. Allora, 33 anni fa c'era lo stadio, c'era la radio e c'era soltanto le immagini della domenica sportiva o di novantesimo minuto. Oggi c'è un tifo che corre anche sui social. Come è cambiato anche il tifo dei napoletani, quindi anche aver superato determinate scaramanzie, superstizioni e soprattutto anche il modo di festeggiare, come attraverso i social, attraverso i meme, striscioni, sagome dei giocatori in alcuni quartieri della città. E anche proprio un modo di raccontare la partita e i festeggiamenti, come anche attraverso le live reaction. Grazie.